c'era una volta un ricchissimo mercante aveva sei figli tre maschi e tre femmine e siccome era un uomo intelligente non risparmiò nulla per educarli e dar loro ogni sorta di maestri le figliuole erano bellissime ma specialmente la minora era una meraviglia quando era piccola tutti la chiamavano bellina cosicché il nome di bella le restò e ciò fu causa per le sue sorelle di grandissima gelosia questa figlia minore che era più bella delle altre era anche più buona di loro le due maggiori erano piene di superbia perché si sapevano molto ricche si davano aria da gran signore non volevano aver nulla a che fare con le figlie degli altri mercanti e ricercavano soltanto la compagnia della gente titolata tutti i giorni andavano a feste da ballo teatri passeggiate eleganti e si burlavano della sorella minore perché preferiva passare il tempo a leggere buoni libri poiché si sapeva che le tre ragazze erano ricche sfondate parecchi grossi negozianti le chiesero in matrimonio ma le due maggiori risposero che non si sarebbero mai sposate a meno che non fosse capitato loro un duca o al minimo un conte quanto a bella vi ho già detto che questo era il nome della minore la bella dico ringraziò molto gentilmente coloro che volevano sposarla ma rispose che le sembrava di essere troppo giovane e desiderava rimanere a tener compagnia a suo padre ancora per qualche anno tutto a un tratto però il mercante fece fallimento e dei suoi averi non gli rimase che una piccola casa di campagna assai lontana dalla città con le lacrime agli occhi disse ai suoi figliuoli che bisognava rassegnarsi ad andare in quella casa dove mettendosi a fare i contadini avrebbero avuto almeno di che vivere le due figlie maggiori gli risposero che non avevano intenzione di lasciare la città e che i loro spagimanti sarebbero stati fin troppo felici di sposarle anche adesso che non avevano più un soldo le nostre signorine si sbagliavano alla grossa quegli spagimanti non le guardarono più in faccia quando le seppero povere e siccome data tutta la loro superbia nessuno le poteva vedere la gente diceva non meritano compassione anzi siamo contenti che abbiano dovuto abbassare la cresta vadano a fare adesso le gran signore badando alle pecore e ai montoni però al tempo stesso tutti dicevano quanto a bella si rincresce proprio la sua disgrazia è una così brava ragazza parlava alla povera gente con tanta bontà era così dolce così gentile vi furono persino parecchi gentiluomini che si offrirono di sposarla anche così senza un quattrino ma lei disse che non aveva cuore di abbandonare il suo povero padre nella disgrazia e voleva accompagnarlo in campagna per consolarlo e aiutarlo nel lavoro la povera bella al principio era stata molto addolorata per aver perduto tutto ma poi si era detta fra sé quando anche mi struggesse in un mare di pianto le mie lacrime non servirebbero a restituirmi quello che ho perduto meglio è cercare d'essere contenta anche così una volta sistemati nella loro casa di campagna il mercante e i suoi tre figli si misero a lavorare la terra bella si alzava alle 4 del mattino si affacendava a pulire la casa e a preparare il pranzo per tutta la famiglia al principio dovette faticare molto perché non era abituata a lavorare come una serva ma in due mesi si fece più robusta e faticando tutto il giorno acquistò una salute di ferro quando aveva finito le sue faccende e la leggeva suonava il clavecembalo o cantava filando le sorelle invece si annoiavano da morire si alzavano alle 10 del mattino bighellonavano tutto il santo giorno e passavano il tempo a sospirare dietro ai loro bei vestiti e alle brillanti compagnie guarda un po' nostra sorella si dicevano l'un l'altra che animo volgare e meschino ha sembra contenta della sua disgraziata situazione il buon mercante non la pensava come le figliuole sapeva che bella era più adatta di loro a brillare in società ammirava la virtù di quella fanciulla e soprattutto la pazienza di lei giacché le sorelle non contente di lasciarle fare tutte le faccende di casa la stuzzicavano ad ogni momento era un anno da che questa famiglia viveva ritirata in campagna quando il mercante ricevette una lettera nelle quale gli si diceva che una nave carica di mercanzie e di sua proprietà era arrivata felicemente in porto tale notizia manco poco non facesse girare la testa le due figlie maggiori tutte liete di pensare che finalmente avrebbero potuto venire via da quella campagna dove s'annoiavano tanto quando il padre fu pronto per partire lo pregarono di portar loro al suo ritorno bei vestiti babri di pelliccia acconciature e ogni sorta di cianfrusaglie bella non gli chiedeva nulla giacché pensava che il denaro delle mercanzie arrivate per mare non sarebbe bastato ad acquistare tutto ciò che le sorelle desideravano e tu non mi preghi di portarti qualcosa le disse il padre da che siete così buono da pensare a me rispose lei vi prego di portarmi una rosa in questi posti non ne vengono questo non vuol dire che bella ci tenesse molto ad avere una rosa ma non voleva aver l'aria di biasimare col suo esempio le richieste delle sorelle le quali avrebbero detto che lei non aveva domandato nulla solo per distinguersi da loro il bravo uomo partì ma quando fu arrivato al porto i suoi creditori gli intentarono un processo si presero tutte le sue mercanzie cosicché dopo essersi dato tanta pena dovette tornarsene indietro povero in canna come era venuto non gli restavano che trenta miglia per arrivare a casa e già si rallegrava del piacere di rivedere i suoi figliuoli quando mentre attraversava un grande bosco si accorse di aver perduto la strada nevicava da non si dire e tirava un vento tale che per ben due volte egli fu buttato giù da cavallo si fece notte e lui pensò che sarebbe morto di fame o di freddo o mangiato dai lupi che sentiva ululare attorno a sé tutt'antratto guardando in fondo a un lungo viale alberato vide una gran luce che sembrava lontana lontana andò da quella parte e vide che la luce proveniva da un grande palazzo il quale era tutto illuminato il mercante ringraziò dio dell'aiuto che gli mandava e si affrettò a raggiungere quel castello ma rimase grandemente stupito nel non trovarvi anima viva il suo cavallo che gli andava dietro vedendo una grande scuderia vi entrò dentro e avendo trovato fieno ed avena quel povero animale morto di fame come era vi si buttò sopra con grandissima avidità il nostro mercante lo lasciò mangiare legato nella stalla e si diresse verso la casa dove non vide alcuno ma essendo entrato in una grande sala vi trovò un buon fuoco acceso e una tavola piena di qualità diverse di carne dove non era apparecchiato che per una sola persona poiché la neve e la pioggia lo avevano bagnato fino alle ossa si avvicinò al fuoco per asciugarsi dicendo fra sé i padron di casa o i suoi domestici mi perdoneranno la libertà che mi son presa e senza dubbio non tarderanno a venire aspettò un bel pezzo ma essendo suonate le undici senza che alcuno si fosse veduto non poté più resistere alla fame ed afferrò un pollo che si mangiò tremando in due bocconi beve anche qualche sorso di vino e fattosi più ardito uscì da quella sala e attraversò parecchie grandi stanze splendidamente arredate gira e rigira trovò una camera dove era preparato un buon letto e poiché ormai era la mezzanotte passata e lui non stava più in piedi dalla stanchezza si decise a chiudere la porta e a mettersi a dormire il giorno dopo erano le dieci del mattino quando si svegliò e fu molto stupito di trovare un abito assai decente al posto del suo che era ridotto molto male certamente disse fra sé questo palazzo appartiene a qualche buona fata che si è impietosita della mia situazione guardò dalla finestra e vide che la neve era scomparsa ma al suo posto c'erano pergolati di fiori che erano una festa per gli occhi entrò nella gran sala dove aveva cenato il giorno prima e vide un tavolinetto con sopra un bel cioccolato caldo vi ringrazio signora fata e gli disse ad alta voce di aver avuto la bontà di pensare anche alla mia colazione il bravo uomo dopo aver bevuto il cioccolato uscì per andare a prendere il suo cavallo ma nel mentre passava sotto un pergolato di rose si ricordò che bella gliene aveva chiesta una e preso un ramo dove ce n'erano parecchie a questo punto udì un orribile fragore e vide venirsi incontro una bestia così mostruosa che gli fu lì per svenire quale ingratitudine la vostra gli disse la bestia con una voce terribile io avevo salvato la vita aprendovi le porte del mio castello e come compenso rubate le mie rose la cosa che mi piace di più di tutto il mondo per scontare un simile errore dovete morire non vi concedo che un quarto d'ora per chiedere perdono a dio dei vostri peccati il mercante si gettò alle sue ginocchia e giungendo le mani così disse alla bestia monsignore non credevo di offendervi cogliendo una rosa per una delle mie figliuole che me l'aveva domandata io non mi chiamo monsignore rispose il mostro ma bestia i complimenti non mi piacciono voglio che ognuno dica quello che pensa quindi non crediate di commuovermi con i vostri salamelecchi ma avete detto che avete delle figlie sono disposta a perdonarvi a patto che una di loro venga spontaneamente qui a morire al vostro posto non una parola di più partite e caso mai le vostre figlie rifiutassero di morire per voi giuratemi che tornerete entro tre mesi Albreguomo non passava neppure per la mente di sacrificare una delle sue figlie a quell'orribile mostro però si disse almeno avrò la gioia di abbrazzarle ancora una volta giurò dunque di tornare e la bestia gli disse che poteva partire quando voleva ma soggiunse non voglio che partiate a mani vuote tornate nella stanza dove avete dormito vi troverete un baure vuoto dove potrete mettere tutto quel che vi piacerà penserò io a farlo portare a casa vostra detto questo la bestia se ne andò il bravo uomo disse fra sé se proprio devo morire almeno avrò la consolazione di lasciare un tozzo di pane ai miei poveri figlioli tornò nella stanza dove aveva dormito vi trovò una grande quantità di monete d'oro e ne riempì pieno zeppo il baule di cui la bestia gli aveva parlato lo chiuse e dopo aver ripreso il suo cavallo che era sempre nella scuderia uscì da quel palazzo con una tristezza non inferiore alla gioia provata nell'entrarvi il cavallo imboccò da sé uno dei sentieri della foresta e in poche ore il bravo uomo arrivò alla sua casa di campagna i figli gli si fecero attorno e lui invece ad essere contento delle feste che gli facevano li guardava li guardava e non poteva fare a meno di piangere aveva ancora in mano il tralcio di rose colto per la bella glielo diede e le disse bella mia prendete queste rose voi non sapete quanto costeranno care al vostro povero padre e qui non potete attenersi dal narrare alla famiglia la triste avventura capitata gli a tale racconto le due figlie maggiori cominciarono a strillare e a coprire d'ingiuria bella che invece non piangeva bella mia prendete queste rose guarda un po' a che può portare l'orgoglio di questa mocciosetta dicevano chissà perché lei non doveva chiedere qualche bella cosina come noi e invece no figuriamoci la signorina voleva fare l'originale così adesso sarà causa della morte di nostro padre e neppure piange sarebbe proprio inutile intervenne bella perché mai dovrei piangere la morte di mio padre quando lui non morirà affatto giacché il mostro vuole accettare in cambio una di noi andrò io ad affrontare la sua furia e ne sono felicissima perché morendo avrò la gioia di salvare la vita mio padre e di provargli tutto il mio affetto no sorellina le dissero i tre fratelli voi non morirete andremo noi a trovare il mostro e periremo sotto i suoi colpi se non riusciremo ad ammazzarlo non lo sperate figli miei disse il mercante la potenza di quella bestia è così grande che non c'è alcun modo di illudersi di farla morire il buon cuore di bella mi commuove ma non intendo esporla alla morte io sono vecchio non mi resta che poco tempo da vivere perderò solo qualche anno di vita che ho motivo di rimpiangere soltanto per voi miei cari figlioli e io vi assicuro padre mio continuò bella che non andrete in quel palazzo senza di me non potete impedire che io vi segua sono giovane è vero ma non tengo molto alla vita e preferisco mille volte essere divorata da quel mostro che morire di crepacuore pensando che non ci siete più per quanto si disse e si fece bella volle assolutamente partire anche lei con suo padre alla volta del palazzo e alle sorelle non parve vero perché le doti della sorellina minore le facevano morire dalla gelosia il povero mercante era così frastornato dal dolore di perdere la sua bambina che non pensava più al baule pieno di monete d'oro ma non appena si fu ritirato nella sua camera per mettersi a dormire ebbe la liata sorpresa di trovarselo accanto al letto decise però di non dire ai figli che l'ha diventato così ricco perché era sicuro che le figlie avrebbero voluto tornarsene in città e lui invece aveva deciso di chiudere i suoi giorni in quella campagna tuttavia confidò a bella il suo segreto e lei gli disse che durante la sua assenza erano venuti alcuni gentiluomini a trovarle e i due di essi erano innamorati delle sorelle pregava quindi il padre di volerle maritare perché era così buona che voleva bene a tutte e due e perdonava loro di tutto cuore i dispetti che sempre le avevano fatto quando bella partì insieme a suo padre quelle cattivacce dovettero strofinarsi gli occhi con una cipolla per aver l'aria di piangere i fratelli invece piangevano sul serio e non meno del vecchio mercante soltanto bella non piangeva per non inasprire il dolore degli altri il cavallo prese la via del palazzo e verso sera essi lo scorsero tutto illuminato come la prima volta il cavallo andò da solo nella scuderia e il buon uomo entrò con la figliuola nella grande sala dove trovarono una tavola splendidamente imbandita e apparecchiata per due il mercante aveva il cuore così stretto che non gli riusciva di mangiare ma bella studiandosi di perer tranquilla si mise a tavola e si riempì il piatto in cuor suo però si diceva la bestia vuol farmi ingrassare prima di mangiarmi lo si vede da come mi tratta quando ebbero cenato si udì un gran fracasso il mercante disse addio a sua figlia con le lacrime agli occhi da che sapeva che la bestia stava per arrivare bella si sentì gelare da capo a piedi quando scorse quell'orribile mostro ma fece di tutto per dominarsi e quando egli le chiese si era venuta lì spontaneamente lei tremando gli rispose di sì siete stata molto buona disse la bestia ve ne sono assai grato quanto a voi bravo uomo partirete domattina e non vi farete più rivedere da queste parti addio bella addio bestia rispose lei e il mostro sparì ah figlia mia disse il mercante stringendoci a bella sono già mezzo morto di paura per voi datemi retta vi prego lasciatemi qui no padre mio mi disse la bella con grande fermezza voi partirete domattina e mi abbandonerete all'aiuto del cielo forse il cielo avrà pietà di me andarono a dormire si credevano di non poter chiudere occhio tutta la notte e invece non appena furono a letto si addormentarono profondamente mentre dormiva bella vide in sogno una dama e le chiese sono contenta bella del vostro buon cuore la nobile azione che fate dando la vita per salvare quella del vostro padre non rimarrà senza ricompensa bella al risveglio raccontò a suo padre questo sogno e quantunque esso li consolasse un poco non impedì al padre di mettersi a piangere e singhiozzare quando venne il momento di separarsi dalla figlia quando egli fu andato via la bella si sedette nella gran sala e scoppiò a piangere anche lei ma essendo piena di coraggio si raccomandò a dio e decise di pensarvi su il meno possibile durante quel po' di tempo che le rimaneva da vivere Zacchè era fermamente convinta che la bestia l'avrebbe divorata la sera stessa intanto mentre aspettava decise di fare un giretto e di visitare il castello non poteva fare a meno di ammirarne la bellezza e fu molto stupita nel trovare una porta sulla quale era scritto appartamento di bella aprì precipitosamente quella porta rimase abbagliata dalla sontuosità che vi regnava quel che però la colpì maggiormente fu il vedere una grande biblioteca un clavicembalo e parecchi libri di musica non vogliono che mi annoi si diceva e pensò subito dopo se avessi un giorno solo da restare qui non mi avrebbero preparato tante belle cose questo pensiero la rincuorò aprì la biblioteca e vide subito un libro dove c'era scritto a lettere d'oro desiderate e comandate voi siete qui signora e padrona povera me si disse che altro posso desiderare se non di vedere il mio povero padre e sapere che fa in questo momento l'aveva detto fra sé e quale non fu la sua sorpresa quando nel posare gli occhi su un grande specchio vide la sua casetta dove il padre stava arrivando e con un viso triste da non si dire le sorelle gli andavano incontro ma nonostante tutte le loro smorfie per sembrare afflitte il piacere che avevano per essersi liberate dalla sorella traspariva sui loro volti un attimo dopo la visione sparì ma bella non poteva fare a meno di osservare che la bestia in fondo era molto gentile e quindi lei non aveva nulla da temere a mezzogiorno trovò la tavola apparecchiata e durante il pranzo fu allietata da un'ottima musica quantunque non si vedesse nessuno la sera al momento di mettersi a tavola udì il fracasso che la bestia era solita fare e anche questa volta il sangue le sigelò nelle vene bella le chiese il mostro siete contenta se resto qui a guardarvi mentre cenate non siete forse il padrone rispose bella tremando no disse la bestia qui non c'è altra padrona che voi ditemi pure di andar via se vi importuno e io me ne andrò subito e adesso ditemi una cosa non è vero che vi sembro molto brutto è vero rispose bella da che io non dico bugie credo però che siate buono avete ragione continuò la bestia ma oltre ad essere brutto sono anche stupido so benissimo da essere una bestia non si è mai una bestia disse bella quando si crede d'essere stupidi uno sciocco non ha mai pensato di esserlo mangiate vi prego bella le disse il mostro e cercate di non annoiarvi troppo in questa vostra casa giacché tutto quel che è qui vi appartiene e mi dispiacerebbe assai che non foste contenta come siete buono disse bella vi confesso che il vostro buon cuore mi piace a pensarvi non mi sembrate più tanto brutto ah questo sì rispose la bestia ho il cuore buono ma sono sempre un mostro conosco tanti uomini che sono più mostruosi di voi disse bella e quanto a me mi piacete più voi con questo vostro aspetto che coloro i quali sotto un sembiante umano nascondono un cuore falso ingrato e corrotto se avessi un po' di spirito riprese la bestia vi farai un bel complimento per ringraziarvi ma sono uno stupido e tutto quel che so dirvi è che vi sono molto riconoscente bella cenò con appetito non aveva quasi più paura del mostro ma si sentì mancare il fiato quando costrui le disse bella volete diventare mia moglie? e la rimase per qualche minuto senza rispondere aveva paura di svegliare la collera del mostro rifiutandolo ma alla fine gli disse tremando come una foglia no bestia a questo punto il mostro volle mandar fuori un sospiro ma gli uscì di bocca a un fischio così spaventoso che tutto il palazzo ne rintronò bella però fu ben presto rassicurata giacché la bestia dopo averle detto tristemente allora addio bella uscì dalla camera voltandosi di quando in quando per guardarla ancora rimasta sola bella fu presa da una gran compassione per quel povero mostro ahimè si diceva è un gran peccato che sia così brutto è così buono bella trascorse tre mesi in quel palazzo abbastanza tranquillamente tutte le sere la bestia veniva a trovarla e le teneva a compagnia durante la cena intrattenendola con discorsi pieni di buonsenso ma privi di quel che in società viene chiamato spirito ogni giorno la nostra bella scopriva nuove doti di bontà in quel mostro l'abitudine di vederlo l'aveva sue fatta alla sua bruttezza e invece di vedere arrivare con timore l'ora della sua visita serale e la guardava spesso l'orologio per vedere quanto mancasse ancora alle nove da che la bestia non tralasciava mai di apparire a quell'ora una sola cosa la tristava bella ed è che il mostro prima di andare a letto continuava a chiederle ogni sera se voleva essere sua moglie e sembrava addoloratissimo nel sentirsi rispondere di no un giorno lei gli disse bestia voi mi fate molto dispiacere vorrei potervi sposare ma sono troppo sincera per farvi sperare una cosa che non è possibile sarò sempre vostra buona amica accontentatevi di questo per forza disse la bestia io sono giusto mi rendo conto d'essere orrendo ma vi amo moltissimo tuttavia mi ritengo abbastanza fortunato se resterete volentieri qui promettetemi di non lasciarmi mai ella arrossì a quelle parole nello specchio aveva visto che suo padre si era ammalato per la pena di averla perduta ed ella aveva una gran voglia di rivederlo io potrei promettere di non lasciarvi mai più disse ma ha un tale desiderio di rivedere mio padre che morirei di crepacuore se mi rifiutaste questa grazia preferirei morire io stesso disse il mostro piuttosto che darvi un dispiacere preferirei morire io stesso disse il mostro piuttosto che darvi un dispiacere vi manderò da vostro padre voi resterete lì e la vostra povera bestia morirà di dolore no disse bella piangendo vi voglio troppo bene per voler causare la vostra morte vi prometto di tornare fra otto giorni voi mi avete fatto vedere che le mie sorelle si sono sposate e i miei fratelli sono andati sotto le armi mio padre adesso è solo lasciatemi stare una settimana con lui domattina sarete a casa disse la bestia ma ricordatevi della vostra promessa quando vorrete tornare non avrete che da posare il vostro anello sopra il tavolino prima di andare a letto addio bella nel dire queste parole la bestia sospirò secondo il suo solito e bella andò a letto tutta triste per avergli dato quel dispiacere quando si svegliò il mattino dopo si ritrovò nella casa di suo padre e dopo aver tirato il campanello che era accanto al suo letto vide arrivare la servetta che scorgendola lanciò un urlo di sorpresa a sentire quell'urlo il bravo uomo si accorse e fu lì lì per morire dalla gioia nel rivedere la sua cara bambina rimasero abbracciati per più di un quarto d'ora dopo le prime tenerezze bella non sapeva come fare ad alzarsi dal letto perché pensava di non averne pure un vestito ma la servetta le disse che nella camera vicino ella aveva trovato un gran baule pieno d'abiti tutti d'oro e adorni di brillanti bella ringraziò in cuor suo la bestia di tante attenzioni poi prese con sé la meno ricca di quelle vesti e disse alla servetta di riporre le altre e voleva regalare alle sorelle ma non aveva neppure finito di dirlo che il baule era scomparso il padre le spiegò che certamente la bestia voleva che ella tenesse per sé tutte quelle belle cose e subito abiti e baule ritornarono al loro posto bella si vestì e nel frattempo furono avvertite le sorelle le quali arrivarono di corsa insieme ai loro mariti erano tutte e due molto felici la maggiore aveva sposato un cavaliere bello come un adone ma egli era così innamorato della propria persona che non pensava ad altro dal mattino alla sera e tantomeno si curava della bellezza di sua moglie che gli disprezzava la seconda aveva sposato un uomo pieno di spirito ma di questo spirito egli non si serviva che per far disperare tutti quanti a cominciare dalla moglie le sorelle di bella quando la videro vestita come una principessa e più scintillante del sole poco mancò non scoppiassero dalla bile bella ebbe un bello a carezzarle non pote soffocare la loro gelosia che raddoppiò quando ebbero saputo che la sorella era felice le nostre due invidiose scesero in giardino per poter sfogare la loro rabbia e si dicevano l'una all'altra chissà perché mai quella mocciosa deve essere più felice di noi non siamo forse più graziose di lei sorella mia disse la maggiore mi viene un'idea cerchiamo di trattenerla qui per più di otto giorni quella sua stupida bestia salirà su tutte le furie nel vedere che lei non ha mantenuto la sua parola e finalmente se la mangerà dici bene sorella mia rispose l'altra ma allora bisogna che le facciamo un mucchio di moine dopo aver preso questa decisione salirono in casa e fecero a bella tante di quelle feste che questa ne pianse per la gioia quando gli otto giorni furono passati le sorelle cominciarono a strapparsi i capelli e a fingersi così addolorate che bella promise di restare altri otto giorni si rimproverava però il dispiacere che in tal modo dava alla sua povera bestia alla quale voleva molto bene tanto che adesso ella sentiva la sua mancanza la decima notte che trascorse in casa di suo padre sognò di trovarsi nel giardino del palazzo e di vedere la bestia sdraiata sull'erba e quasi morente che le rifacciava la sua ingratitudine bella si svegliò all'improvviso e le venne da piangere non sono cattiva si disse a far tanto dispiacere a un mostro che è stato così gentile con me è colpa sua forse se è brutto è così poco spiritoso è buono e questo conta più di tutto il resto perché non ho voluto sposarlo sarei più felice io con lui che le mie sorelle con i loro mariti non è né la bellezza né lo spirito di un marito a rendere la moglie contenta è la bontà del carattere la virtù le buone maniere il mostro ha tutte queste buone qualità non ne sono innamorata è vero ma lo stimo e ho per lui sentimenti d'amicizia e di riconoscenza su via non è giusto che io lo renda infelice per tutta la vita non potrai perdonarmi la mia ingratitudine nel dir così bella si alza e va a mettere il suonello sul tavolino e se ne torna a letto non appena fu sotto le coltri si addormentò di colpo e fece tutto un sonno fino al mattino svegliandosi vide con piacere che era di nuovo nel palazzo della bestia si vestì con gran cura per piacergli di più e tutta la giornata si annoiò da morire aspettando che ci facessero le nove ma l'orologio ebbe un bel suonare la bestia non si fece vedere bella allora temette ad aver provocato la sua morte si diede a correre per tutto il palazzo piangendo e chiamandolo a gran voce era proprio disperata dopo aver cercato da tutte le parti le tornò alla mente il suo sogno e corse in giardino dalla parte del canale dove l'aveva vista dormendo la povera bestia era lì stesa in terra priva di sensi bella credette che fosse morta si gettò sul suo corpo senza provare alcun ribrezzo per la sua persona e accorgendosi che il suo cuore batteva ancora prese un po' d'acqua e le bagnò la testa la bestia aprì gli occhi e disse a bella avete dimenticato la vostra promessa il dolore d'avervi perduta mi ha spinto a lasciarmi morire di fame ma adesso muoio contento perché ho avuto il piacere di rivedervi ancora una volta ma no mia cara bestia voi non morrete gli disse la bella voi dovete vivere per diventare mio marito fin da questo istante io vi do la mia mano e giuro che non sarò d'altri che vostra ahimè credevo di provare per voi soltanto una buona amicizia ma il dolore che sento mi fa capire che non potrei più vivere senza vedervi appena bella ebbe detto queste parole ecco che tutto il castello si diede a brillare di mille luci lumi fuochi d'artificio musica tutto le annunciava una grandissima festa ma tante meraviglie non trattennero a lungo i suoi occhi e la si voltò subito verso la sua cara bestia il cui stato la teneva ancora in agitazione ma quale fu la sua sorpresa la bestia era sparita e ai suoi piedi ella non vide più che un principe bello come il dio amore che la ringraziava per aver rotto l'incantesimo di cui era vittima quantunque un principe così fatto meritasse tutta la sua attenzione e la non potà impedirsi di chiedergli dove fosse la bestia è qui ai vostri piedi disse il principe una cattiva fata mi aveva condannato a restare sotto quell'orribile sembiante sino a quando una bella fanciulla non avesse consentito a sposarmi e mi aveva anche vietato di mostrarmi intelligente e così in tutto il mondo non c'eravate che voi così buona da potervi innamorare della bontà del mio carattere offrendovi la mia corona non posso certo sdebitarmi di tutta la riconoscenza che provo per voi bella gradevolmente sorpresa porse la mano a quel bel principe perché si rialzasse insieme essi raggiunsero il castello e bella si credette di morire dalla gioia quando nella gran sala vide il suo padre e tutta la famiglia che era stata trasportata al castello da quella bella dama che un giorno le era apparsa in sogno bella le disse quella dama che era una potentissima fata venite a ricevere il premio dell'ottima scelta che avete fatta voi avete preferito la virtù alla bellezza e anche allo spirito meritate di trovare tutte queste doti riunite in una sola persona inoltre diverrete una grande regina ma ho fiducia che il trono non distruggerà le vostre virtù quanto a voi signore mie disse la fata alle due sorelle di bella conosco bene il vostro cuore e tutta la malizia che ve dentro diverrete due statue pur conservando tutto il vostro intendimento sotto la pietra che vi avvolgerà starete mute e immobili alla porta del palazzo di vostra sorella e non vi do altra pena che quella di dover assistere alla sua felicità non potrete tornare al vostro primitivo stato che allorquando riconoscerete pienamente tutti i vostri torti ma ho gran paura che dobbiate rimanere statue per sempre l'orgoglio l'ira la gola e la pigrizia si possono correggere ma è una specie di miracolo la conversione di un cuore cattivo e invidioso a questo punto la fata toccò tutti quelli che erano nella sala con la sua bacchetta magica e li trasportò nel reame del principe i suoi sudditi lo rividero con gioia e lui sposò la sua bella con la quale visse lungamente in una felicità perfetta perché basata sulla virtù di un po'